Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura sempre l'emergenza sanitaria. Quasi tutta Italia diventa zona arancione, ma la campagna resta zona rossa. Lo sfogo di De Luca sono criteri demenziali. Allarme truffa a Torre del Greco. Da segnalazioni giunte in redazione, i cittadini stanno ricevendo telefonate per recarsi a compilare dei moduli in merito ai vaccini agli uffici della protezione civile ai Molini Marzoli. Invitiamo chiunque riceva questa telefonata a rivolgersi agli organi competenti. Ancora caos all'ufficio anagrafe di Torre del Greco. Questa mattina cittadini in fila per ore per il rinnovo della carta d'identità. Poi la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza. Facciamo il punto dei controlli anti-Covid del weekend. Ieri la giornata del mare. Volontari in azione per ripulire dai rifiuti Porto e Litorania. in chiusura allo sport con la Turris che perde l'opportunità di salvezza contro la Ternana. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Quasi tutta Italia diventa arancione, ma la campagna resta rossa. Eppure i dati della nostra regione migliorano per quel che riguarda l'occupazione delle terapie intensive e quindi la pressione sugli ospedali. Diminuiti considerevolmente anche i decessi per Covid. Tutto questo però non basta per passare in arancione. L'indice RT sulla contagiosità è ancora sopra la soglia critica e si attesta sull'1,19. Già nella diretta ai venerdì il governatore Vincenzo De Luca aveva attaccato duramente la scelta del governo. Demenziali, criteri del CTS per la catalogazione dei colori delle regioni. Ci sono disparità di trattamento difficili da tollerare, denuncia De Luca. Noi oggi abbiamo come terapie intensive un'occupazione del 26% e ci dicono che siamo rossi. Posti di agenza occupati 37%. In Campania non c'è stata chiusura ai reparti ordinari negli ospedali, nelle altre regioni invece sì. Il Presidente ha espresso anche solidarietà per tutti i cittadini che vivono sentimenti di rabbia e di rivolta dettati alla situazione. La loro rabbia è giustificata. Capisco la loro indignazione. Stanno tutti a passeggio e nessuno controlla nessuno, nemmeno il corretto uso della mascherina. Perché quindi non potrebbe riaprire un teatro, un cinema, un barbiere o un ristorante con le dovute misure di sicurezza? Telefonate e truffa per i vaccini a Torre del Greco. Secondo alcune segnalazioni giunte alla nostra redazione, alcuni cittadini avrebbero ricevuto delle telefonate a casa in questi giorni. L'operatore al telefono avrebbe chiesto alle persone contattate di recarsi agli uffici della protezione civile per compilare alcuni moduli relativi ai vaccini. Non c'è nessuna procedura in atto in tal senso. Noi come struttore di contrariato di protezione civile non telefoniamo, non facciamo inviti e tantomeno siamo autorizzati a poterlo fare. Pregherei attraverso la vostra emettente, mi rivolgo ai cittadini che dovessero ricevere telefonate del genere, di avvisare subito le forze dell'ordine. Quindi è possibile che questa sia una truffa, soprattutto per i cittadini anziani? Io mi auguro è proprio per questo che questo non avvenga e faccio appello, ulteriore appello ai cittadini anziani e chi gli sta vicino di segnalare ulteriormente alle forze dell'ordine eventuali arrivi di telefonate del genere. È possibile quindi che le telefonate siano un modo per allontanare le persone, principalmente anziani, da casa per poter agire indisturbati con truffe o furti. Per questo consigliamo di contattare immediatamente le forze dell'ordine qualora si ricevesse una telefonata del genere e di non muoversi da casa. Ancora caos all'ufficio anagrafe di Torre del Greco. Ore di attesa per i cittadini in fila per il rinnovo della carta d'identità. Disaggi dovuti alla forte carenza d'organico negli uffici che si protrae ormai da tempo. Ai microfoni di TV Siti abbiamo raccolto la rabbia e l'esasperazione dei cittadini. Non sono mancati gli appelli all'amministrazione comunale per far fronte alla situazione. Da stamattina la fila si protrae per molto tempo. Molto di più. Ci sono persone che ci hanno appuntamento a mezzogiorno, adesso sono quasi le due e non sono riusciti ancora a fare la carta d'identità. Danno degli appuntamenti a persone tutti quanti nello stesso orario e poi magari una sola persona che sta allo sportello deve fare servizio per tutte le persone. Giustamente noi non ce l'abbiamo con la signora che lavora, però le persone che dovrebbero lavorare dove stanno? Hanno approvato un bilancio e devono fare 29 assunzioni. Dove stanno queste 29 assunzioni? Non hanno fatto ancora niente. È evidente che in questo ufficio c'è una carenza d'organico per cui non si riesce a gestire tutta l'utenza. Sì, è così. Ci manca il personale. Noi siamo un paese di 80.000 persone e non è possibile che una sola persona deve lavorare e fornire servizio per tutta la città. Ci vuole il personale. Il suo appello al sindaco? Deve solo prendere un'iniziativa per creare qualcosa per risolvere il problema. Avevamo l'appuntamento a mezzogiorno e un quarto e ecco qua, sono le due e siamo ancora qua. È impossibile stare con un solo funzionario, con tante persone. E qui per rinnovare la carta d'identità? Per rinnovare la carta d'identità. Abbiamo fatto la prenotazione sei mesi fa, siamo arrivate ad oggi e sto aspettando dalle 11 e mezza che arriva il mio turno. C'è poco personale, non possiamo pretendere che un'unica persona si occupi di tutte le pratiche e tutti gli appuntamenti poi vincolati allo stesso orario. Quindi c'è un problema di base che non dipende dai dipendenti ma dipende da chi organizza, insomma, c'è dalla gestione generale. Un problema di gestione, un problema di organizzazione che va però a danno dell'utenza? Sicuramente. In altri comuni, mia sorella di Bosco Reale, 5 minuti fa la testa e va via. Noi siamo qui dalle 11 stamattina. Da cittadina un appello all'amministrazione comunale? Di sicuro fare più assunzioni, quindi dare spazio ai giovani, far sì che i giovani entrino in quello che è il sistema comunale. Anche persone magari più organizzate, non discapito di persone un po' più adulte o di età un po' più avanzata, però dare spazio ai giovani in modo che si subentra anche una tecnologia nuova, che sia quella dei computer, che sia quella comunque della digitalizzazione del documento. Quindi creare un attimino una situazione differente, quindi dare anche un po' più di posto di lavoro, visto che la situazione che viviamo, far lavorare qualcuno non sarebbe male. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli tra venerdì e domenica ha controllato tra il capoluogo e la provincia 1.619 persone a attività commerciali. 162 le sanzioni complessive, non solo anti-covid, ma anche per spaccio di sostanze stupefacenti, con drabbando di sigarette e gioco d'azzardo. I controlli hanno riguardato soprattutto Napoli-Città, a seguito delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare via Toledo e Lungomare, via Partenope, via Chiaia, i Decumani. Controlli anche a mare nelle acque antistanti Mergelina e Santa Lucia. Più in dettaglio il dispositivo, composto dal gruppo pronto impiego e dal primo gruppo, integrato dai rinforzi delle compagnie di Torre Annunziata e Giuliano, ha portato alla contestazione di sanzioni in città tra i quartieri Monte Calvario, San Ferdinando, Chiaia, Posillipo e Scampia, a carico di 34 tra persone senza mascherina, in strada senza vali di motivi o fuori dal proprio comune di residenza o domicilio. I baschi verdi, allertati da alcuni cittadini nel corso dei servizi di ordine pubblico, hanno fermato in via Toledo un cittadino sudanese che spintonava i passanti, molestandoli e insultandoli. Lo stesso è stato denunciato per immigrazione clandestina, violenza e resistenza pubblico ufficiale, oltre che sanzionato per violazione alla normativa anticontagio. Anche nelle immediate diacenze dell'area portuale, il secondo gruppo ha sanzionato 48 persone sorprese in strada senza comprovati motivi, fuori dal proprio comune di residenza o durante il coprifuoco. Altre sanzioni anti-covid a persone ed esercizi commerciali anche in provincia. In particolare la compagnia di Pozzuoli, al termine di un controllo anti-covid avviato su strada e proseguito con una perquisizione domiciliare, ha tratto in arresto a Licola due coniugi trovati in possesso di quasi un chilogrammo di hashish, 95 grammi di cocaina e di oltre 600 grammi di marijuana, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. La compagnia di Torre Anunziata, dopo aver notato un'autovettura che alla vista della pattuglia aveva effettuato una manovra repentina, ha tratto in arresto all'altezza del casello autostradale di Torre Anunziata Sud un 31 n. di nocere inferiore, Salerno, trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. Infine a Nola, le fiamme gialle hanno sequestrato presso un bar delle apparecchiature telematiche illecitamente collegate alla rete, nonché ricevute di gioco per 265 euro attestanti l'avvenuta attività riscommessa. Denunciato il titolare per raccolta clandestina di scommesse, oltre che sanzionato per violazione anti-covid unitamente ad un cliente mentre effettuava la giocata. Volontari ripuliscono Porto e Litorale, di Torre del Greco. In occasione della giornata del mare, la Capitaneria di Portoguardia Costiera, di concerto con la locale amministrazione comunale, ha fornito il proprio contributo tecnico-operativo alla realizzazione dell'iniziativa ambientale promossa, tra le altre, dalla sezione locale della Lega Navale Italiana e dall'Associazione Prima Aurora. Sin dalle prime ore della mattinata, alcuni gruppi di volontari, in numero estremamente contenuto e nel rispetto delle vigenti disposizioni covid, si sono adoperati per procedere alla rimozione e differenziazione di rifiuti eventualmente abbandonati nelle aree del Porto Corallino ed in alcune spiagge linitrofe. Il successivo smaltimento dei rifiuti raccolti è stato assicurato ai competenti servizi del Comune di Torre del Greco. Inoltre, nel corso della stessa mattinata, nell'ambito del progetto denominato Marine Litter, del flag litorale Miglio d'Oro, è stata effettuata una dimostrazione pratica del funzionamento del Sibin, cestino marino per la raccolta della plastica, e dei banner olioassorbenti, attrezzature particolarmente innovative per assicurare la pulizia degli specchi acquei, soprattutto in ambito portuale. Nei quattro porti del flag litorale Miglio d'Oro, che sono quelli di Portici, di Ercolano, di Torre del Greco e di Torre Annunziata, sono state installate queste installazioni, che si chiamano Sibin, che sfruttano una particolare tecnologia per cui, con un principio fisico, creano un vortice e recuperano plastiche e microplastiche, che poi vengono ogni giorno raccolte dalla Sojourn, e quindi c'è un continuo lavoro di smaltimento di queste plastiche nei nostri porti. Poi invece dall'altro lato del porto sono state installate, oltre alla Sibin, anche dei banner che raccolgono invece gli oli esausti, che questa mattina sono stati strizzati sempre per dare una dimostrazione di quello che si sta facendo. Tutte le nuove associazioni, spiegano nel comunicato, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche ancora una volta e portare avanti un'attività di riqualificazione di quattro zone simbolo di Torre del Greco, il porto, la scala, la spiaggia delle Terme Ginnasio e la spiaggia del Laghetto. Tra queste è importante ricordare la presenza del liceo scientifico Alfred Nobel di Torre del Greco, per rimarcare ancora di più il ruolo centrale di giovani nel processo di rivalorizzazione della città e di tutela e salvaguardia dell'immenso patrimonio naturalistico-ambientale, storico-culturale del nostro territorio. Non riesce alla Turris l'impresa di fermare la corazzata Ternana nella sua corsa verso la salvezza. I Coralini escono sconfitti per 1-0 dal match con i Rossoverdi, ma grazie ai risultati degli altri campi vede sempre più vicino il traguardo della permanenza in Serie C. Partono bene i padroni di casa che ci provano con Giannone, che ben innescato da Tascone in contropiede spedisce al lato della porta Umbra. Lo stesso Tascone ci prova da fuori, ma anche lui non trova il bersaglio. Nella ripresa la Ternana alza i ritmi e tiene in mano il controllo della partita, anche in virtù dell'evidente differenza tecnica tra le due squadre. Il non è entrato vantaggiato da un saggio delle sue qualità calciando da fuori e sfiorando il palo. Poco dopo è partipilo a creare pericoli alla difesa corallina. A un quarto d'ora dalla fine con la Turris tutta rinchiusa nella propria area a difendere il prezioso pareggio, è proprio vantaggiato a trovare il guizzo da bomber per battere l'esordiente portiere Barone e siglare il gol dell'1-0. La Ternana non si ferma e ancora vantaggiato in agrobazia, prova il colpo del KO, ma il pallone finisce fuori. La Turris non reagisce più e il triplice fischio si arrende di fronte alla supremazia degli ospiti, che così continuano la loro marcia record. Discorso salvezza quindi rimandato presumibilmente al prossimo turno contro il fanalino di Coda Cavese, che con la vittoria contro il Teramo ha rimandato il verdetto di almeno una settimana. Agli uomini di Caneo basterà non perdere per tagliare fuori definitivamente i metelliani e assicurarsi praticamente la matematica salvezza. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'e-mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it chiamando al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.